carote su carote un po' leone leone ah ho capito diamo un po' di carote a leone ah buono buono mi piace questa cosa anche una mancata troppo contatto scompare si è risaputo che scompare le carote sono solo uno è salzato io andare a mangiare andata a mangiare tutti so cosa vuol dire col buco c'è quel pezzo di merda in giro cerchiamolo di certo su un coperso in tutte queste carote ah giusto sta dimenticando un granaggio attenzione saremmo morti probabilmente ma mi fa del culo qui è difficile perchè bisogna quando super 6 ansi calma luce si è bruciata mi piacciono anche affuncate sono così e un'altra buona bene bene dai vado a piedi dalle balle double kill qua c'è un'altra mi basta una per alzare si è contenta ah uno ne alza il primo due alzano il secondo la ci siamo andati io con lì due usine pende di anelli mi sembra mi sembra mi sembra ma sono le casse ma qua c'è un'altra buona e c'è un suo terzo ah devi di utilizzare la tua camion mia ah 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 ha preso qualcosa non posso non posso sparare non posso sparare non mi fa sparare ok che vado vado ah ah scusa ah ah scusa schifo ottimo perché se ci riusciamo lo stesso secondo me ad entrare si beh però si fa le cose scarpini ehm andiamo un po' qua c'è qua allora farci la stanza eccolo là bastardo sì io beh questo stas non ho ragione su cazzo mi sono perso un po' qua allora quindi la sua comoda no se non lo so dove siamo ehm sono sono ah ok ho capito sì quando vi sono la cassa a primi chi mi sta sentita posto non c'è non c'è non c'è tutto mi dici ma poi non ci siamo venuti sì perché siamo saliti sopra prima ma perché c'è il timer basta vado via si è baggato il timer ma chi si vede veloce 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 di dio ci è vero sta eh qua sotto qui siamo venuti qua sotto allora qua sopra si sulla destra non ci sono stati non scristo chi è quel timer su cazzo acqua v v v v v v v v v qui qui e niente dove c'era quella da 25 non mi chiede quanto allora aspettami prima cazzo v 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 vo la nuova ma da e andiamo mi sembra solo mangi i pesci intanto perché sono un piranello quindi posso mangiarti ma che chizzo di qua è? sorry allora allora tecite e adesso arrivo una giusta tipo il senso che è l'acqua no alza un po' il volume che non c'è in un cazzo credo che quel tipo dovrebbe andare in vacanza ok oddio mamma mia questo si chiama quindi tu sei in qualche modo collegati con i bong cosa vuol dire con i gong pardon mi ha distrutto la vita aspetta aspetta fai aspetta eh tu distraido salta qua sopra salta qua sopra venga qua aspetta cassius merda attivo interruttore merda sono incasinato ahi sono i tesori cadono che cosa vuol fare salta su un interruttore devi tenere la videocamera aspetta ehm prego salta su qualcosa su un interruttore aspetta aspetta prima devo sturdirlo venghi un signori aspetta ok mi ha ucciso sono morto sono morto scappa 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 allora salta qua dammi una videocamera no scherzo buona buona no perché si scivolta l'interruttore si è girato bisogna sturdirlo si si scusi lei venga qua non diranno ci sono va più indietro dai prima era venuto il consiglio babba non sarà più pesante di una scatola riesce a sollevarlo sollevano l'interruttore è davvero questo è davvero scatola è davvero per me è questo qua segui segui il diavolo segui il diavolo non segui il coniglio vada vada spacchi il mondo eh avvicinati che schifo ti lancio vieni segui il coniglio segui il coniglio dai venga venga pane per tutti no segui il coniglio follow the white rabbit ok adesso non vedo un cazzo vai no neanche oh si si boh non riesco a capire se ha fatto qualcosa che ci sono ehm boh Sì, assolutamente. Attrappolo al centro? Attrappolo al centro? Attrappolo al centro? Tutto deve andare. Baba colpisci i gong. Colpisci i gong? Non riesco a capire. Per me è così. Cioè, per forza se lo ricerchi. Cioè, questo qua. E' un po' più. E' un po' più. è un po' per il tuo caso per il suo delitto fai aaa ma vaffanculo che cazzo vuol dire che dovevo aver fatto lo specchio no ma scusi ma passi sotto l'ombra scusi ma l'ombra non si può coniglio non si può coniglio ma scusi ma non si stesse più lei secondo chi ha giocato cazzo stas su 1 no senso non posso il listo il giugno venga venga qui chi c'è un'altra scatola pronta per lei costi regole al mio padre france conto a figlia spazio sconda eccola lì finalmente davvero qualche torna erati coglioni sto da fidare non avevo tempo da perdere, non ho ripetuto Duffy e la Gemma del Tempo, era nata nell'era della Transilvania, ah, abbastanza di granaggi, buona per andare, non lasciarmi prima aprire la porta, faccio quello che vuoi, tranquilla, non ti voglio neanche chiedere, ma perché fai solo dei flash quando finiscono i flash? Ok, buono, finitati questa? Sì, abbiamo Greenwich, ma ci torniamo subito, salva la partita, e noi ci vediamo nella prossima zona, la Transilvania, non so che senso abbia, 60%, aveva fatto 19%, buono, interpondate, interpondate, l'aumento, tutto sta l'aumento, si tira su, su, comunque, se anche questa puntata vi è piaciuta, lasciate mi piace, iscrivetevi e dai, ciao, 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 ciao